Ragazzi, l'anno qui è iniziato nel migliore dei modi sotto il sole. Volevo augurare a voi un buon inizio anno, che si abbiano di cose belle e tanto amore. Soprattutto volevo dare un buon proposito alle mie Difference Kids Girls. Iniziate l'anno con un unico proposito fondamentale, che è amatevi, vogliatevi bene, prendetevi cura di voi, basta, seguiteci, perché sono sicura che abbiamo dei tip carini per far sì che questo sia più facile. Grazie a tutti.